Salve traders, come va? Spero tutto bene, qua con voi un'altra volta Eric Munoz in Lion Bull Academy Oggi ho una piccola sorpresa per tutti voi, soprattutto per quelli che siete interessati al mondo delle criptomonete e volete creare il vostro progetto dentro una blockchain, volete creare il vostro token e volevo, si può dire, regalarvi un'applicazione, un tool, uno strumento che vi possa aiutare a creare il vostro token senza dover programmare e senza dover spendere soldi extra in nessuna parte se vi ricordate, se qualcuno ha visto il video della serie di creare il tuo criptoimpero come creare il tuo proprio token, io vi avevo fatto vedere l'applicazione chiamata di X-Sale va bene, l'applicazione dove potete crearvi i vostri propri token lo standard token, che è quello che andremo a fare nella nostra Lion Bull Academy vi costava, qua c'è scritto 0,1 però no, aspetta me lo metto nella rete scusate andiamo alla rete normale di Polygon così vi faccio vedere quanto costa vi costa in totale un Matic, creare una token standard che sarebbe intorno a 2 euro attualmente, va bene? allora, questo è quello che vi potete farlo qua, dovete solamente mettere il vostro nome il nome del token il simbolo, i decimali e il supply come vi ricordate ve l'avevo già fatto vedere nel video adesso io ho creato per voi se andate a lionbullacademy.com e andate a dove c'è scritto ERC token generator li schiacciate vi apparirà il vostro il Lion Bull Academy ERC token generator è un generatore di token come l'altro però dove non potrete non dovrete pagare niente soltanto la commissione che costa che accade il contratto che è pochissimo la prima volta che lo aprite vi chiederà di connervi con il vostro Metamask lo accettate non vi preoccupate solo vi dice di connetterlo per poter riconoscere la Metamask per darvi l'accesso dentro la rete di Ethereum o qualsiasi altra rete in questo caso andiamo a creare adesso una token qua davanti a tutti voi per vedere come funziona però è molto semplice prima di tutto andiamo a cambiare la rete andiamo alla rete di test va bene? a Polygon Testnet già come vedete ho fatto i token spagnoli adesso andiamo a fare quelli italiani ok adesso che l'abbiamo cambiato ricarichiamo la pagina per essere sicuri che siamo nella testnet giusta che sarebbe dire current network id is 800001 va bene? allora siamo nella rete giusta se ci scriveva Polygon Mainnet allora sappiamo che siamo nella rete principale poi cambierò anche questi nomi e metterò meglio metterò per esempio questa Polygon rete di test cambierò un po' le cose le farò un po' più interessante il programma però per adesso già si può utilizzare allora andiamo a creare il nostro token qua molto molto economica ci costerà nella rete reale attorno a 0,08 Matic che sarebbero nel prezzo attuale intorno a 15 centesimi perciò molto molto economico nell'altro vi costa un Matic più 0,08 perciò vi fatevi il conto un Matic in più che sono soldi allora mettiamo il nome della token che vogliamo creare in questo caso facciamo Italian mettiamo Italy Italy Lyon token va bene il simbolo mettiamo Italy Lyon token I L T decimali ci mettiamo 9 per esempio qua dobbiamo scegliere quanti decimali dopo la virgola quanti 0 ci saranno è meglio sempre metterne un po' perché è più facile che non ci siano problemi con la matematica quando fate delle transazioni in questo caso ne abbiamo messe 9 potete mettere fino a 18 senza problemi io per esempio nell'Ion Bull Academy token ci hanno messi 18 però per questo esempio mettiamo 9 allora qua dobbiamo mettere il total supply mettiamo che c'è un milione soltanto di questo token 1 1 2 3 1 2 3 adesso dobbiamo continuare con i numeri decimali che ci sono dopo aver messo il supply in questo caso ci sono 6 0 che sarebbero il milione più dobbiamo aggiungere altri 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok adesso ci abbiamo il total di supply anche dato schiacciamo submit che sarebbe sta creandosi il contratto ci chiederà qua in metamask di accettarlo lo accettiamo nella versione di prova nella testnet ci costa 0,029 sarebbe 0,03 però in quella reale ho già fatto la prova e ci costa 0,08 allora schiacciamo conferma comincerà a crearsi la transazione qua si aspetta un po' la transazione è stata effettuata già abbiamo i nostri token dentro la nostra wallet per vederli dobbiamo copiare questo numero va bene aspetta se può copiare copia dobbiamo andare alla wallet sotto del tutto importa token inseriamo il nostro token ci dice ilt e 9 schiacciamo aggiungi il custom token il token personalizzato e già qua ce l'abbiamo ilt e un milione di token importiamo il token e già ce l'abbiamo dentro la nostra wallet visuale il programma quello che fa è lo manda direttamente alla nostra wallet di creazione sarebbe questa l'unico che non lo possiamo vedere finché non lo non lo raddrizziamo al contratto per sapere esattamente cos'è e lì ce l'abbiamo ci abbiamo adesso un milione di ilt creati nella nostra wallet allora se andiamo a vedere la net nell'esploratore possiamo andare a vedere che già ci sono dentro un milione di ilt che sarebbe questo il numero del contratto allora per adesso holder c'è scritto 0 perché finché non facciamo una trasferenza una transazione non sa che li abbiamo noi il polygon moonbay allora appena facciamo una transazione all'exchange o a qualche altra persona o all'initian coin offering apparirà qua gli holders che ce l'hanno attualmente va bene però già avete la vostra token creata e salvata dentro la vostra metamask la vostra wallet senza aver pagato quasi niente esattamente 15 centesimi per aver creato la vostra token va bene spero vi sia piaciuto questo tutorial spero vi sia piaciuto il programma che avete a disposizione adesso dentro la yonbull academy lo andremo migliorando prossimi programmi faremo un generatore di token più professionale dove potete aggiungere le fee sarebbe le commissioni dove potete aggiungere che ne so la white list dove potete aggiungere il burn anche se volete che potete avere tante tante parametri personalizzabili per creare un token più professionale però già con questo potete cominciare a creare il proprio token se vi interessa per fare per esempio pagamenti o roba per che ne so per supporto del canale per radunare soldi per la creazione del progetto dove ci tante cose si possono utilizzare per fare questo però questo già è la porta più semplice per poter cominciare nel mondo della blockchain spero vi sia piaciuto il video ci vediamo alla prossima ciao ragazzi